Musica Sabato 28 settembre 2024, buongiorno, ben ritrovati, buon fine settimana dalla redazione di Teleregioni in apertura della nostra rassegna stampa abbiamo un servizio, è a disposizione della magistratura la salma di Tigeglio Spinelli, 65 anni che ha perso la vita su un bus in transito all'ingresso di Montesilvano a causa della frenata che è stato costretto il conducente la polizia locale sta ascoltando i testimoni nel servizio, le immagini dell'incidente ci dice tutto Valentina Ciarlante Avrebbe compiuto 66 anni tra due mesi Tigeglio Spinelli, ex bidello del conservatorio di Brescia originario di Cupello che ha perso la vita mentre viaggiava sul bus di linea in transito nella tarda mattinata di ieri al confine tra Pescara e Montesilvano la brusca frenata a cui è stato costretto l'autista una volta imboccata la rotatoria del quartiere Santa Filomena gli è stata fatale, ha battuto la testa contro gli estintori e per lui non c'è stato nulla da fare il magistrato Andrea Papalia ha disposto il sequestro del bus un Solaris di 18 metri della tua, la società di trasporto unico abruzzese che ha diramato una nota per esprimere vicinanza alla famiglia della vittima di questo tragico incidente la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertamenti tutto è nato come si nota dalle immagini di una delle 90 telecamere attive a Montesilvano per la videosorveglianza dall'arrivo di un'automobile che ha invaso la rotatoria e determinato la frenata dell'autobus l'uomo alla guida, originario di Montesilvano, è stato identificato dalla polizia locale gli agenti del comandante Nicolino Casale sono intervenuti prontamente Dunque sulla dinamica non abbiamo dubbi, ci sono anche le immagini, sono chiarissime Cosa succederà adesso? Adesso è tutto nelle mani della procura noi stiamo inviando tutti i risultati delle indagini alla procura il mezzo è sequestrato, la salma è a disposizione del magistrato e deciderà lui cosa fare E per la nostra rassegna stampa, come sempre partendo dal regionale molisano primo piano molise nell'apertura, bye bye secondo sottosegretario passa la prima lettura della revoca, calessipario sulla querelle che ha alimentato lo scontro politico dell'estate molisana ma la votazione definitiva dovranno trascorrere almeno 60 giorni cessa la materia della contendere, le opposizioni avanzano in stanza di sospensione del referendum le altre notizie nel centro pagina, città ferro e fuoco, il questore vieta, il centro e i locali dell'area risse e aggressioni a Campobasso, fermate 8 persone, per un anno non potranno frequentare né il burgo né gli esercizi che somministrano cibo ed alcolici le altre notizie, Isernia, Castataro Cancella, 570 strisce blu da 750 a 180 Palazzo Vitale, meno guardie armate, chiesto un incontro al governatore Isernia cambio al vertice della prefettura, Tancredi saluta qui come a casa nel taglio laterale dentro la notizia, Campobasso, Scolaretti scrivono a Sinner uno di noi, lui ricambia con cartoline autografate, Termoli, Santimotio, centrale termica troppo rumorosa, l'arpa conferma, ordinanza del sindaco con il fondo pagina, Asrem Università, binomio di successo, tumore al fegato rimosso con tecnica mini-invasiva, paziente dimesso in poche ore nel taglio laterale c'è il punto, firma di Umberto Berardo i problemi e il futuro della scuola italiana nel taglio alto lo sport, Campobasso, Braglia e Loggia i suoi benissimo nelle occasioni da gol, Isernia lavora per il match di fermo tante conferme in vista, poi ancora la palavolo l'Europea 92, Bontestamichevole, la Spike con Sabaudia da primo piano molise uno sguardo alle prime pagine abruzzesi partendo con la prima del centro nell'apertura bus, frena, passeggero, cade e muore, tragedia tra Montesilvano e Pescara, caccia all'auto che ha tagliato la strada il virus della zanzara, Dengue, secondo caso ad Ortone in pochi giorni scatta l'allarme, poi ancora tre furti in 24 ore a Pescara, arrestato il ladro, seriale dei negozi pilite in fiamme, Masci scagionato, Pescara la procura chiede l'archiviazione per il sindaco, ma accusa il comune di omissioni, poi ancora la storia, mimma l'eroina compie 102 anni, così ha salvato decine di ebrei nel taglio alto invece i debiti della sanità avviso ai manager AS da Piani Occhemi a rischio il commissariamento l'Aquila vertice in prefettura, traforo del Gran Sasso i lavori per la sicurezza al via da 14 di ottobre nel fondo pagina Biancazzurri in vetta Pescara, Loro e il centrocampo Serie C, Baldini, Sicote, Valzania Valzania, Lonardi e la mediana Super nel fondo pagina Francavilla, Russo contro Luciani io non faccio il burattino ancora le testate abruzzesi, questa volta con la pagina d'Abruzzo del messaggero, Bass frena, passeggero cade e muore nel centro pagina il mezzo tuo, costretto a una brusca manovra per evitare un'auto sbucata all'improvviso un 65enne perde l'equilibrio e batte la testa contro gli estintori donna ferita, autista, sotto shock Gran Sasso, traforo, senso unico alternato per 60 giorni, bomba d'acqua ristoratori ai negozi, ristori ai negozi per danni Pescara ha approvato l'ODG Bipartisan per il commercio ancora l'Aquila, riapertura, riaperta la chiesa dei gesuiti il fascino dell'opera interrotta le altre notizie, nel fondo pagina dopo il declassamento nella tutela voluto da Bluxell anche il lupo è a rischio abbattimento nel taglio laterale, guerriero di Capistrano accuse al Ministero per il registra Alessio Consorte i reperti sono dei falsi e chiede un commissario ad acta nel taglio alto, autostrada 24 Cervo, piomba sulla carreggiata due feriti e un animale morto omicidio Thomas verso lo sconto di pena per i due sedicenni indagati Serie C, Pescara, solitario in vetta risveglio da grande squadra dalle estate regionali, molisane ed avruzzesi diamo adesso uno sguardo alle prime pagine nazionali come sempre partendo con la prima del Corriere della Sera nell'apertura il conflitto berlico raid a Beirut contro Narsala bombe sul quartier generale di Hezbollah voci sulla morte del leader Netanyahu si va avanti Medio Oriente rase al suolo sei palazzi della capitale libanese il premier israeliano contesta l'ONU una palude antisemita fermato un 17enne Maria uccisa dopo l'incontro in rete le altre notizie l'intervista con il PD una ferita che si allarga Conte Schlein sbaglia da Spazio e Renzi con lui non ci stiamo per ancora ciclismo l'elvetica caduta in discesa polemica sui soccorsi il sogno spezzato di Führer morta a 18 anni al Mondiale dal Corriere della Sera uno sguardo alla prima pagina della Repubblica nel centro pagina obiettivo Narsala ride dell'aviazione israeliana a Beirut sul quartiere generale di Hezbollah incertezza sulla sorte del leader sbriciolati sei edifici usate una super bomba USA azione legittima Iran grave escalation cambia le regole del gioco l'accusa di Netanyahu le Nazioni Unite sono diventate una palude antisemita intelligence basta armi a Kiev che c'è dietro i manifesti pro-Russia nelle città italiane nel taglio laterale mappamondi Trump riceve Zelensky ma sono un amico anche di Putin dalla Repubblica uno sguardo alla prima pagina del messaggero colpito il cuore di Hezbollah titolo nel centro pagina super bomba di Israele sul bunker di miliziani giallo sulla sorte di Narsallani Netanyahu all'ONU palude antisemita le vissure del governo per la natalità bonus mamme anche oltre il 2026 potenziamento dell'assegno unico per ancora migranti stretta sui voli delle ONG in Unione Europea tornano le frontiere chiuse il giro di vite e di flussi che però slitta viene al voto noi una fortezza dal messaggero uno sguardo alla prima pagina del tempo scandalo Becciu il titolo nel centro pagina stiano intercettato in Vaticano poi ancora il tempo di Oshoi senza tetto all'esquilino centro con area relax e wifi poi campo largo a pezzi disastro Rai Elio ora è sola Conte si smarca Renzi frega Orlando libertà di voto dal tempo uno sguardo alla prima pagina del fatto quotidiano Netanyahu l'uomo solo al massacro Beirut Bibi parla all'ONU e la sala si svuota poi ordina un'altra strage obiettivo Narzallah 15 di Bome su Rione 400 dispersi il leader di Hezbollah al sicuro nel taglio alto destra Movimento 5 Stelle ABS Ucraina Stop Escalation capigruppi di pace manca soltanto il Partito Democratico più ancora regionale in Liguria Conte Spallerenzi Orlando vuol tenerselo Mediaset già avanti Latella Saviano e gli altri flop Rai già in panne dal fatto quotidiano uno sguardo alla prima pagina della verità nel taglio alto giudici scatenati a favore dei clandestini a Palermo bocciati ben 65 respingenti su 74 per ancora nel centro pagina no all'aeroporto Berlusconi Sala in disgrazia e si aggrappa la polemica con il Cavaliere morto per ancora sul fine vita al centro-destra si presenta diviso dopo la bocciatura con polemiche in Veneto iniziativa di Cappato arriva in Lombardia la Lega verso la libertà di coscienza incognita su una parte di Forza Italia rischi di farsi dettare dall'agenda dalla consulta dalla verità uno sguardo alla prima pagina del manifesto strage collaterale il titolo nel centro pagina Netanyahu dice all'ONU di voler la pace poi va in albergo e ordina di bombardare Beirut mira al leader Zbollah batte se palazzi con bombe anti-bunker è una strage che infiamma il Medio Oriente la guerra totale è un passo oggi sarà un giorno da incubo migranti ONG la stretta è quasi fatta nuovo pesante provvedimento in consiglio dei ministri è solo rinviato dal manifesto uno sguardo al quotidiano economico del solo 24 ore nel centro pagina bombe nove mesi ruggenti Wall Street batte Europa con spinta high tech i rally dei mercati S&P 500 e Nasdaq guadagnano oltre il 20% piazza affari sale al 14,4 le sorprese asiatiche di Taiwan e India Spagna al top in Europa spesa con il freno tirato nel 2025 26 l'alcune è spinta dello 0,2% sul PIL operazione e-commerce smentito il cambio di sede per Unicredit non andrà in Germania nel taglio laterale visita Berlino Mattarella per l'Italia Germania partner imprescindibile in chiusura uno sguardo al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport il centro pagina è dedicato all'anticipo di Serie A che si è giocato ieri sera e che ha visto i rossoneri trionfare ai rossoneri vengono i 5 minuti il Milan vola alto 3 gol in un lampo a San Siro Battillecce va in testa per una notte con il Torino Fonseca da Morata a Ebram energia contagiosa tragedia nel ciclismo ciao Muriel la 18enne Svizzera non ce l'ha fatta poi ancora con la Serie A Udinese Inter alle ore 15 in Zaghi c'è la Tula per ripartire Genoa Juventus alle ore 18 Motta cerca i gol a porte chiuse in chiusura diamo uno sguardo anche al nostro palinzesto ore 11 zona sport alle 12 replay di tutti i gol del girone B della Lega Pro alle 14 la nostra informazione in diretta con il telegiornale ore 15 Campobasso Vis Pesaro alle 16.55 zona sport 19.30 il nostro telegiornale alle 21 ancora Campobasso Pesaro alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale non mi resta che salutarvi vi ringrazio per averci scelto tutti voi un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti